L'ultima settimana di ottobre a Teramo sarà un susseguirsi di laboratori, visite guidate, degustazioni e ristorazione. Sta per iniziare la diciannovesima edizione dell'arte della cucina a Teramo, un appuntamento ormai consolidato, organizzato dal Comitato Provinciale dell'Associazione Aix e che ogni anno si gemella con una regione. Quest'anno sono di scena le marche. Abbiamo coinvolto sei ristoranti della città di Teramo, della città di Castelli e di Campli, dove verranno degustate le pribatezze della cucina teramana con menù dedicati ad hoc, selezionati anche con la DMC Gran Sasso Laga e in più verranno anche acquistate i laboratori in cui si spiegherà la metodologia e la tecnica per realizzare questo tipo di piatti della cucina teramana. La promozione della cucina locale è vista come turismo culturale e rilancio economico e questo è uno degli obiettivi più importanti che si propone l'Aix di Teramo. L'Aix è una delle associazioni più importanti storicamente anche come quantità ormai in Italia ed è nata inizialmente più centrata sulle attività strettamente culturali e sportive. Con il passare degli anni ci si è allargati al turismo, al turismo sociale, al terzo settore, ci si è allargati a interventi sull'immigrazione, la formazione. E oggi puntate sulla cucina. Oggi a Teramo con la DMC abbiamo avuto occasione di essere coinvolti e di farci coinvolgere. Si incontrano anche le scuole dell'Abruzzo e delle Marche in questa iniziativa. Sì, i due istituti alberghieri agravi di Teramo e di Ascoli si incontrano all'Istituto Rozzi in una mattinata in cui si vuole mettere in risalto l'importanza del prodotto di entrambi i territori con uno studio, con un convegno e con delle attività di laboratorio all'interno dell'Istituto.